Ben ritrovati per un nuovo appuntamento con l'informazione di TRMH24, omicidio-suicidio nel Brindisino a Villa Castelli. Questioni di vicinato hanno spinto un 81enne a sparare prima contro un 53enne e poi a togliersi la vita, indagano i carabinieri. Il corpo di Nicola Lacorte è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale Perrino di Brindisi, al suo seguito quello di Carmelo Cantoro. Di primo mattino quest'ultimo 81enne ha ucciso Lacorte, 53 anni, sparandogli per almeno quattro volte all'altezza del volto per poi rivolgere il fucile anche contro se stesso, togliendosi la vita. È la prima ricostruzione dell'omicidio-suicidio avvenuto in Contrada Montescotano a Villa Castelli, nella provincia di Brindisi. Sarebbe legato a banali questioni di vicinato il movente. L'anziano, a quanto pare, lamentava che il più giovane con i suoi mezzi gli ostruisse l'uscita del garage. Qui si è consumato l'omicidio, all'esterno dell'abitazione, dove la corte, imprenditore edile, viveva da un anno con la sua famiglia, come ogni mattina stava caricando il furgoncino, preparandosi alla giornata di lavoro. Era tornato a Villa Castelli da pochi anni, dopo un periodo a Modena, per portare avanti l'attività edilizia del padre. L'imprenditore lascia moglie e due figli, un maschio e una femmina di 22 e di 18 anni. Sotto shock la famiglia, che era in casa, quando ha avvertito gli spari. Era invece separato da un anno, cantoro, non aveva figli e prima di togliersi la vita avrebbe fatto esplodere una bombola del gas, tentando di dar fuoco all'abitazione del cognato, fratello dell'ex moglie. Sulla vicenda indagano i carabinieri, sul posto quelli di Francavilla Fontana, coordinati dal capitano Alessandro Genovese, con loro i militari del comando provinciale di Brindisi e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza delle bombole del gas presenti. Una vera tragedia, Nicola era una bravissima persona, commenta il sindaco Giovanni Barletta. Ho pianto, lo conoscevo bene. Sconvolti anche gli altri parenti e i conoscenti. Nicola è ancora una bravissima persona, una persona che rimarrà nei nostri cuori, perché era una persona per bene. Oggi è difficile trovare gente per bene. Tranquillo, un ragazzo bravissimo. Nuovo scacco al clan Parisi Palermiti di Bari. La squadra mobile ha arrestato il 69enne Eugenio Palermiti, ritenuto ai vertici del clan mafioso. Atti persecutori e violenza privata aggravati dal metodo mafioso. Queste sono alcune delle accuse per le quali la squadra mobile di Bari ha arrestato Eugenio Palermiti, 69enne ritenuto ai vertici del clan mafioso Parisi Palermiti. L'uomo è considerato il mandante di un agguato avvenuto nel quartiere Iapigia di Bari a novembre del 2013, nei confronti di un suo coetaneo ferito con due colpi di pistola alle gambe. La vittima, incensurata impiegata da un'agenzia di distribuzione di quotidiani e periodici, nel corso del tempo aveva concesso favore al 69enne arrestato, ma poi aveva deciso di smettere. Per gli inquirenti lo scopo dell'aggressione era di indurre la vittima a chiedere proprio a lui aiuto e protezione per l'agguato subito. Per quanto concerne le accuse di atti persecutori e violenza privata, si tratta di fatti commessi tra il 2021 e il 2022 nei confronti di tre aspiranti collaboratori di giustizia dei loro familiari. Le condotte, scrivono ancora gli inquirenti, erano dirette ad ottenere la ritrattazione delle dichiarazioni rese e l'allontanamento forzoso dei rispettivi nuclei familiari dal quartiere Iapigia di Bari. L'uomo è stato tradotto dunque nel carcere e l'ordinanza di custodia cautelare messa dal GIP di Bari è stata richiesta dalla direzione distrettuale antimafia. Il figlio di Eugenio, Giovanni Palermiti, è in carcere e nel 2022 è stato condannato all'ergastolo in primo grado per l'omicidio di Walter Raffaschieri, ucciso nel quartiere Carbonara di Bari nel 2018. Voltiamo pagina a Matera il forum internazionale sul turismo italiano organizzato dal Sole 24 Ore. Coniugare innovazione e comunicazione per esaltare i territori italiani dal cuore della montagna fino alle coste marine. Questa è la principale visione che ha caratterizzato il forum internazionale del turismo italiano organizzato a Matera dal Sole 24 Ore in collaborazione con la regione Basilicata e APT Basilicata. Dopo la prima tappa a Genova il secondo appuntamento del forum ha accolto nella città dei Sassi gli interventi di personalità istituzionali, esperti del settore e rappresentanti delle diverse realtà territoriali. L'evento ha rappresentato quindi un'occasione preziosa per riflettere, condividere e progettare il futuro del turismo dell'Italia a partire dalla programmazione strategica nazionale e regionale con la consapevolezza che la collaborazione e l'innovazione saranno chiavi fondamentali per il successo del settore. Sono state messe in campo una serie di iniziative per cui ritengo che il turismo, che è la molla un po' trainante della nostra regione, debba avere soprattutto uno sviluppo per il futuro. Noi abbiamo già qui a Matera fatto due edizioni del turismo delle radici, noi faremo un'altra anche a novembre. Credo che sia molto importante anche perché riunisce una serie di operatori che vengono da tutte le parti del mondo e soprattutto è importante perché fa conoscere il nostro territorio. Organizzare un evento come questo significa anche far rientrare la Basilicata in quel novelo di regioni dove non solo si promuove il turismo ma si promuove anche il dibattito sul turismo. Quindi un parterre qualificato come quello che stiamo ospitando quest'oggi su tematiche che noi abbiamo condiviso con il Sole 24 Ore, che sono le tematiche che interessano il turismo lucano, il turismo diffuso, il turismo culturale, il turismo del mare, gli investimenti, i borghi, sono tutti argomenti centrali nella nostra attività di programmazione. Una nuova e importante scoperta nell'ambito delle scienze planetarie è stata presentata in Ateneo a Bari. È tutta italiana la scoperta di una delle più rare meteoriti al mondo caduta in Italia meridionale contenente un materiale impossibile. Capofila della ricerca è l'Università di Bari che ha avviato un percorso di ricerca con l'Università di Firenze e l'Agenzia Spaziale Italiana. Una scoperta innovativa nell'ambito delle scienze planetarie. Il meteorite contiene infatti rarissime leghe metalliche in alluminio e rame e presenta al suo interno materiali con una simmetria proibita e quasi cristalli. Le scoperte più che rare io le definirei sempre interessanti perché sono prodomiche ad altre scoperte, ad altri percorsi di ricerca. Quindi noi stiamo per presentare uno dei passaggi e sono contento che lo facciamo insieme ad altri perché la ricerca prevede questo intreccio. L'intreccio dei fili crea la razza che si chiama appunto scoperta dell'inedito. Questa scoperta è molto importante perché si tratta della seconda meteorite al mondo mai scoperta che contiene quasi cristalli. Questo materiale che definiamo impossibile perché viola tutte le regole della cristallografia e delle scienze dello stato solido finora conosciute. E questo materiale sono leghe metalliche in sostanza. Vengono molto usate addirittura per fare la pellicola antiaderente dei tegami antiaderenti, delle pentole. Quindi dal punto di vista delle scienze dei materiali sintetici è già noto. L'importanza di questa scoperta invece riguarda il rinvenimento in natura, in ambito extraterrestre, perché si pensa che possa avere un'origine presolare, cioè precedente alla nascita del sistema solare e quindi apre nuovi orizzonti su quella che è l'origine del sistema solare e del sistema terra. All'ospedale Santa Maria di Bari è eseguita una delicata operazione per un tumore con tecnologia robot. Nell'ospedale Santa Maria di Bari è stato eseguito un intervento per la rimozione di un tumore al colon retto utilizzando il sistema robot denominato Ugo. Si tratta del primo caso in Puglia. La delicata operazione è stata messa a punto dall'equip guidata dal dottor Antonio Brown, responsabile di chirurgia generale, su un paziente di 66 anni. Il robot Ugo è uno dei robot di ultima generazione. ha la possibilità innanzitutto di braccia separate, dei moduli a sé stanti che interagiscono in maniera simultanea con una console centrale che viene comandata dall'operatore. Questa console ha un sistema di visione tridimensionale e di controllo degli strumenti che può essere variato durante l'intervento chirurgico. La patologia oncologica del colon retto è tra i tumori più diffusi negli uomini con circa 26.800 nuove diagnosi nell'ultimo anno. La tecnologia robotica consente al paziente una serie di vantaggi. I vantaggi per il paziente della chirurgia robotica sono sicuramente l'approccio mini-invasivo. Il paziente viene operato con minore impatto su quello che è lo stress chirurgico di parete e soprattutto il vantaggio fondamentale è una visione ottimale che consente di effettuare dissezioni molto più precise e quindi eseguire gli interventi in maniera oncologicamente corretta con una preservazione e un risparmio di quelle strutture nobili che altrimenti in altre situazioni potrebbero essere sacrificate. Giornata del malato all'oncologico Giovanni Paolo II di Bari Hanno fatto tappa all'ospedale oncologico Giovanni Paolo II di Bari le reliquie di San Pio l'iniziativa in occasione della 32esima giornata mondiale del malato celebrata ieri all'obiettivo di alleviare le sofferenze dei pazienti nel segno della fede e della speranza. La peregrinazza ospedaliera delle reliquie del santo di Petralcina è cominciata sabato scorso da Santa Fara e si concluderà il 17 febbraio. È una cosa molto bella perché abbiamo la fortuna e la grazia di poter tenere per qualche ora con noi queste reliquie di San Pio da Petralcina è proprio il cuore di San Pio da Petralcina e la nostra idea è di mantenere questa reliquia qui in cappella per un momento di preghiera e poi io farò anche passare in alcune zone dell'ospedale non si può andare nei reparti ma in alcune zone è possibile fermarsi un attimo in preghiera anche con le persone che abitualmente frequentano l'ospedale per la terapia. Io credo che l'esperienza religiosa è importante per ogni uomo in modo particolare per coloro che vivono un momento di sofferenza, un momento della malattia un momento di grande consolazione sapere che anche la presente di San Pio da Petralcina che ha avuto una grande capacità di essere accanto ai sofferenti e ai malati la sua presenza e la sua intercessione possa essere vicino a ciascuno di noi. Grande festa di carnevale domani su TRM Network in occasione del martedì grasso La magia e i colori dei carnevali di Puglia e Basilicata nelle vostre case con TRM Network Dallo studio 2 di Bari Raffaello Tullo e Martina Salvatore con la partecipazione di Antonello Vannucci e Nicola Acalia si collegheranno in diretta con i nostri inviati per incursioni e contributi in un viaggio unico attraverso le tradizioni, la musica e l'allegria dei carnevali più vivaci dei nostri territori Maria Cristina De Carlo Eleana Di Sabato Ciro Dattoli Serena Manieri Alessandra Martellotti e Chiara Curci ci porteranno ad Apricena Putignano Corato Aliano Palo del Colle Bitonto San Michele Ruvo di Puglia Santeramo in Colle Manfredonia Monte Scaglioso e Massafra Una maratona festiva al via dalle ore 17 sul canale 16 del Digitale Terrestre di Puglia e Basilicata 519 delle piattaforme Sky e TVSat in live streaming sul canale YouTube TRMH24 sul nostro sito e canale Whatsapp L'amichevole partecipazione di Paolo Comentale del Teatro di Pulcinella di Bari e Roberta Diana non perdetevi un martedì grasso speciale su TRM Network Appuntamento domani sera intanto vi ringrazio e vi do appuntamento alle prossime edizioni